Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il benvenuto qui al canale siamo Csifarmic Simulator 22 nella vecchia campagna agricola, allora anzi ho finito completamente di seminare il cotone sul 53 e sul 42 e niente stavo valutando una nuova progressione. Allora per quanto riguarda gli animali, sia pecore che capre, galline e cavalli stiamo anche bene, produzioni non vedo problemi, si li lasciamo senza bancali perché costano una marea e non so se e come mi daranno indietro i soldi, devo soltanto andare avanti col tempo però prima volevo prendermi dei terreni, allora vediamo un attimo cosa prende, nel frattempo come sempre prima di continuare con il gameplay, io vi ricordo di scrivermi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando è gratuito, è un grande supporto che fate a me e un aiuto immenso, vi ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su, che andate a chi mi piace, dimmi un like, commentate, un piccolo saluto, una faccina, un segno del vostro passaggio è graditissimo e in più giù in descrizione da tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio, allora anche se non è dei migliori mi prenderei il 20 il 38 e non abbiamo più soldi ok pensavo di spendere un po' di meno in effetti però va bene va bene così allora ho preso il 20 e il 38 il 20 è a che va bene intanto andiamo a vedere che punto è sto terreno e poi possiamo anche andare avanti di già penso proprio di sì perché dobbiamo andare a marzo per completare altre semine vediamo sì perché ho tutti i terreni fermi in questo momento allora il terreno è coltivato però mancano i dati sia di questo perfetto vabbè ph buono adesso lo lavoriamo ok e qua ci siamo che non serve neanche la rattura io direi di andare direttamente avanti sì perché non ho molto da fare per cui va bene così a meno che non ci fosse qualche offerta animali venduti comunque i soldi arrivano perché ci sono belle produzioni molto bene 154 mila euro questo lo avevamo già visto una bella macchina per quello non basterebbero neanche i soldi va bene non basterebbero neanche i soldi ma magari un altro terreno ci sta e allora il terreno lo aspettiamo prossimo giro io direi di cominciare a riseminare allora la seminatrice che abbiamo non c'era una seminatrice a noleggio no bene non avevo niente a noleggio ok allora noi dobbiamo seminare l'avena sì o no ma posso anche seminarla volendo sul tipo sul 22 sul 22 ok qua si semina avena qua non penso esatto che ci siano problematiche e in invece con questo e andiamo a seminare girasoli molto bene allora qua i girasoli poi andiamo avanti nel frattempo si le seminatrici sono queste anzi le due piantatrici che ho ma ho una terza anche ok andiamo a prenderla allora forse non mi bastano i soldi esatto 161 devo fare un po di debito ok anche il nostro trattore l'abbiamo preso sì eccolo qua ci colleghiamo l'amazzone e che seminiamo dopo il giro soli toccherebbe alle patate le patate non sarebbe una cattiva idea se so con questa si le posso fare sul 43 anche se l'altra volta ho avuto un po di difficoltà perché è un po troppo pendente a volte allora crea lavoro apri possiamo fare un giro che dovremmo esserci vanno giù molto in fretta ovvio c'è scampo però va ben così prossimo mese niente andiamo avanti a seminare il resto però quello che voglio capire io intanto questo si è bloccato ma voglio capire io se i terreni hanno bisogno di calce perché nel caso devo intervenire assolutamente ecco i giri erano da fare tre due almeno vabbè vediamo questo anche no questo piacca scarso nel loro sto terminando le semine girasoli patate restano va benissimo ma noi qua abbiamo anche finito qua mi sono già attivato e attivo già il percorso per quanto mi riguarda per la semina del mais perfetto dispiegati già si dispiega si si spera si intanto seminiamo il mais lì di là avete visto avevo già finito di raccogliere i sassi su questo e manca pochissimo per finire la calceviva e ci siamo perfetto anche qui ho già preparato per il sorgo mi resta l'ultimo che faccio con i semi di soia ma credo di avere ancora terreni a disposizione secondo i miei calcoli si resta il 23 e basta se siamo proprio giusti giusti con con i terreni anche questo ha finito il lavoro molto bene e poi c'è solo andare avanti è finita lì allora siccome la cultura da seminare dopo è sorgo semi di soia ma i semi di soia io li lascerei stare perché avrei più intenzione seminare sorgo anche perché 112 mila litri le galline richiedono 124 una volta all'anno non so quel terreno lì se mi è sufficiente oppure no però è anche vero che meglio far semi di soia che mi devo ricordare di venderli perché la situazione è grave allora aspettate perché mi fermo che devo restituire un po' di debito se no qua i soldi se bruciano 8 mila euro i cavalli dovrebbero arrivare a 50 mila in teoria il problema mio è che di sta maledizione di farm visita gli ho messo il la paglia ma non se la piglia buh il fieno si ma la paglia no allora possiamo in effetti cominciare vero si non so sarà la sesta volta che ma no qua c'era i girasoli prima vabbè molto bene no bene così e non c'è niente da raccogliere almeno che nel 34 non sia pronto vedere fammi scendere no invece è pronto e allora ci muoviamo perché devo fare fieno allora punto più vicino no ma dal primo punto senza che perdiamo tempo ce lo porto io molto bene ok fa sempre andana tanto non cambia allora cibo 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 agli animali non penso no riusciamo a tirare avanti dai bene mi resta soltanto che aspettare che il tutto processi nel migliore dei modi vendite non ne ho aspetto di poter vendere i semi di soia ecco per meno ci faccio qualcosa allora nel frattempo che le semine si portano avanti io darei un po di cibo a queste povere galline così anche mi rendo conto anzi dovrei dar proteine in effetti e le proteine ci sarebbero allora fammi scaricare va allora 60.000 litri non dico di dare tutti e 60 alle galline però vediamo osteria ecco ho appena detto non dare 60.000 litri ma purtroppo mi sono fregato da solo eh sì proteine e cereali va bene le proteine andavano bene anche per i cavalli ma purtroppo avendo sempre fieno sotto fatico a sistemarle vabbè intanto lasciamo lì vediamo se servono borbabiette tagliate ma invece andiamo avanti però devo finire anche qua prima di poter andare avanti sinceramente boh devo capire un attimo dobbiamo capire allora io direi che nel frattempo io mi farei anche sto lavoretto qua perché tanto non è che che ci siano difficoltà devo aspettare tanto vale che raccolga tutto sto fieno e andiamo avanti perché comunque devo aspettare poi eh sì così me lo raccolgo io vado meglio faccio prima e va bene così per cui finisco sti lavorazioni qua e poi ci becchiamo appena appena ho delle novità soltanto che qua invece di raccogliere salta lui allora con tutte e tre le seminatrici ho finito per cui ho finito di seminare qui invece ho rimesso ho messo l'operaio perché eh dovevo portare a termine gli altri lavori qua siamo a posto come vi ricordate ho dato il mangime il prezioso mangime alle galline chissà che producano un po' di più ma per il resto vedo che non c'è nient'altro l'acqua ma penso che regga l'unica mia punto è di andare avanti sì tanto qua anche se viene su un po' di erba non è che mi interessi molto eh e finirà poi venremo a prenderlo per cui andiamo a maggio senza nessun problema voglio solo capire un attimo perché eh la paglia stenta a rimanere lì ecco adesso c'è però vabbè devo tenere d'occhio a luglio e i semi di soia allora come vedete i terreni sono tutti a posto a parte il 34 che vabbè non importa animali venduti perché 34 mila euro di animali venduti ma sarebbe paura che mi fotta ma non avevamo forse preso rallenta un attimo non avevamo forse preso la stalla dei maiali ho sbaglio ovini e ci sono mi sembrava o no no allora il prossimo passo è prendere questa zona qua 256 mila euro presumo che sia fattibile sì molto fattibile perché a luglio ho il più grande update dei soldi mai visto materiali mancanti allora fermati un attimo semi semi ma vabbè qua è tutto mancante ok provo non lo so se no perché mi servono i soldi e l'unica è qua che mancano le barbabiette da zucchero beh vabbè che poi magari me ne servono ancora meglio che carichi così resto là un attimo e finiamo anche l'orzo e ormai l'orzo è finito ok 6 mila siamo quasi al massimo della resa allora fermiamoci un attimo perché il 45 è pronto fermati un attimo perché il 45 è pronto ma quello che interessa a me invece è capire che qua va bene dai sì pensavo di pronto per la raccolta però invece no ci vorrà ancora un bel po' perché finisca però abbiamo i soldi per comprare la zona che interessa a me questa no ancora no alla faccia se costa sta zona basta che tanto è inutile non ne contiene più perché non ho più orzo sinceramente ce ne vuole allora il 45 che è a frumento anzi a orzo visto che mi serve sto orzo no andiamo a trebbiarlo mi fai la paglia sì e adesso arrivo con un trattore e un rimorchio ok questo lo lasciamo lì dovrebbe intravederlo spero qua si blocca dovrebbe essere interessante nel senso che dovrebbe arrangiarsi per quanto meno allora strano perché questa è la 9000 non so se è la colossus ed è modificabile devo modificarle perché se no per aumentare per alleviare un po' i tempi di attesa vabbè dovrebbe venirselo a prendere credo allora visto che mi servono i soldi e comunque le 7300 7200 sono 1 milione e 100 sono 20 20 mila euro in meno io sta vendita me la voglio fare sì possiamo caricare anche con questo esatto e andiamo all'elevatore per grano può essere che vada ancora più su 6600 no non importa io vado a vendere a quel prezzo lì di là e devo venire a raccogliermi sta paglia perché assolutamente mi servirà subito mi ha già fatto due bei balloni sì va benissimo tanto vabbè la paglia è lì per cui a meno che non riesca a fermarla e fare un ballone piccolo così sono sicuro che comunque all'interno non ci resterà molto questi due balloni qua sono proprio piccolini ottimo e anche il fieno anzi io direi di lasciarlo qua proprio proprio per evitare qualsiasi problema possiamo andare e vado a imballarmi anche se non è il trattore proprio ideale per imballare la paglia si si è stata disattivata e non è proprio il trattore ma va ben così tanto però devo aumentare a 2 49 ok copiato il percorso lo lanciamo e si si bene 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 dovrebbe prendere ho sbagliato qualcosa oppure perfetto tanto il punto ormai lo conosciamo io come sempre prima di concludere con il gameplay vi ricordo di iscrivervi al canale è gratuito vi costa un attimo del vostro tempo però fa la differenza e vi ringrazio 1.168.000 quei soldi che ho perso li ho recuperati col punteggio ambientale pollicelli in su dei migliori like commentate condividete lasciate un bel segno del vostro passaggio un saluto una faccina rimanate sia qualcosa che dia un segnale è giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio allora quello che volevo fare io dal principio era di andare ad acquistare la terza zona questa delle mucche 2.56 che adesso abbiamo sbloccato bovini allora questa stalla è particolare perché è robotizzata e se non sbaglio dovremo essere qui eccolo qua è qui dove il robot viene alimentato ok allora qui devo metterci il fieno la paglia e l'insilato per il momento l'insilato è ancora un problema comunque il robot che ne esce fa questo giro pensateci sono riusciti ad accambiare il percorso vedete giù di qua viene giù di qua va di qua entra qua in teoria dovrebbe alimentare le mucche e da qua se ne torna la in teoria in teoria qua c'è il latte vorrei capire dove devo acquistare gli animali non importa se non ho tutti i prodotti ma va ben così allora 440 serviranno un bel po' di soldi allora io andrei a prendere sembra che sia io farei latte da qua non vedo perché andare per la produzione di latte derivati per la produzione di latte derivati le mucche prestano l'erba ma prendiamo questo no no restiamo qua allora seleziona vediamo quanti soldi servono abbastanza 110 mila euro io andrei a comprarle e vediamo subito cos'è apparso di bello eccola qua oh 2 milioni alla faccia 2 milioni di litri di cibo servono all'anno e serve anche no basta tutta la relazione mista però non importa per il momento la relazione mista per il momento ci porto soltanto anche se no l'insilato lo vorrei fare dai balloni con l'erba poi vedremo magari di fare l'insilato col ceroso diciamo con la pula osteria mamma vabbè lo so che sei bloccato però ma che disastri allora vediamo se posso portargli intanto sto fieno qua poi si vedrà poi vedrò cosa fare perché qua appena posso faccio un giro di insilato però come avete visto 2 milioni di di pappa e sono tanta roba e tanto qua abbiamo 309 mila litri di fieno io spero che gli altri animali siano a posto paglia ce n'è a casa volendo per cui ecco la paglia potrei anche dimenticarmene però il resto no purtroppo no 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 se io le tiro giù se io le tiro su giù si e allora allora purtroppo direi di lasciarle qua così così qua è sistemato e chi è che è bloccato qui vado a prendermi un po' di balloni ok 3 1 300 guarda la faccia 321 mila litri di paglia ok almeno così si carica vedete ottimo e qua eh sono queste che che danno eh altro che qui invece stiamo parlando di 71 mila litri vabbè devo capire dove dare la paglia comunque io credo che per il momento mi fermo qui mi ringrazio per essere qui in mia compagnia vi do appuntamento al prossimo gameplay ciao a tutti grazie e alla prossima ciao ciao ciao